in questa situazione di difficoltà e di grande precarietà soprattutto per i giovani abbiamo il dovere di richiamarci ai valori e ai principi della costituzione nata dalla resistenza ponendo il lavoro il lavoro dignitoso speranza di futuro al centro di ogni azione e di ogni richiesta a fondamento del sistema democratico troppi sono i fatti che evidenziano una caduta dell'etica pubblica come il manifestarsi di gravissimi fenomeni di corruzione e malaffare proprio nel nostro territorio provinciale di cui passa in parte la perdita di fiducia nelle istituzioni ma la politica non ammette vuoti e la sola risposta al degrado politico è ancora l'impegno politico come quello dei tanti amministratori che dedicano il loro tempo all'interesse collettivo dobbiamo dedicare questa giornata di festa anche al doloroso ricordo dei caduti ma in questa giornata è necessario rivadire pietas per tutti i morti in quegli anni terribili ma non ci può essere un omologazione tra le ragioni di chi ha dato la vita per la libertà e quelle di quanti sostenevano il regime fascista e gli occupanti nazisti nessuno sdoganamento della repubblica di salò sarà mai possibile una volta passata la buriana del virus il nostro fare memoria deve continuare nelle scuole nei luoghi di lavoro nelle piazze con mostre libri film opere artistiche ma anche nella voglia di essere liberi di cantare e ballare per rendere omaggio alla resistenza e al suo fondamento democratico oggi dobbiamo e vogliamo ancora con più forza poter dire viva la costituzione repubblicana viva il 25 aprile